Ciao Chico! Allora, Chico Cerea, ristorante da Vittorio in Brusa Porto, provincia Bergamo. Allora, dici come ti è venuto in mente spuma e trippa di baccalà? Allora, io ho mangiato questa trippa di baccalà da tempo fa in Spagna e me ne sono innamorato. La presento in diverse preparazioni nel mio locale e ho cercato di abbinarla poi con il baccalà. Baccalà proponendolo però in un modo inusuale, no? E l'ho reso così fluido, spumoso e quasi mousse. Naturalmente poi non poteva mancare l'abbigliamento classico con le patate. Ho cercato di creare questo antipastino servito al bicchiere e spero che comunque sia abbastanza armonico al palazzo. Ah, è buonissimo, è fantastico. Grazie.